Buonasera, grazie dell'invito, grazie della presentazione. Io coamministro Pescaria, che è un'azienda che è nata nel 2015, a maggio del 2015, da un'idea avuta appunto nel dicembre del 2014. Io vorrei usare il nostro esempio per raccontare quello che credo sia un concetto molto importante, soprattutto quando si parla di un'università telematica, che credo per definizione sia un'università capace di adattarsi velocemente, con una velocità maggiore al mondo del lavoro, ed è il concetto di distanza fra il mondo delle imprese del lavoro e il mondo della formazione accademica. Io ho 30 anni ed ero nel 2010 ancora all'università, peraltro la mia tesi di laurea era sul Panzerotto, si chiamava il Panzerotto, però era una tesi in economia industriale e voleva dimostrare il fatto che partendo da una sapienza locale, il Panzerotto, si poteva creare un sistema estremamente profittevole in uno dei mercati più profittevoli del mondo, dove per assurdo né gli italiani e né i pugliesi, che sono forse i due interlocutori più qualificati quando parliamo di know-how circa il prodotto food, avevano una presenza. Oggi i leader a livello mondiale nel mercato del food non sono italiani, non sono pugliesi, è il settore più profittevole, cioè il fast food, che è una parte della ristorazione con margini di profitto ben più alti di quelli dei ristoranti normali, non è rappresentata in una maniera debita da interlocutori né italiani né pugliesi. Io in quella tesi provo a dire una cosa, guardate che noi abbiamo una quantità enorme di prodotti, prendiamo il Panzerotto, ma in realtà noi a Pescaria facciamo tutt'altro, facciamo panini col pesce crudo, il pesce crudo è una forma di consumo tipicamente pugliese, potremmo prenderli, fornirli in un format differente e trasformarli in delle imprese estremamente profittevoli. Ora, il punto è, la storia di Pescaria è interessante perché credo che il risultato da noi è raggiunto, per essere chiari, noi nel primo mese abbiamo venduto 3.000 panini, abbiamo aperto a Milano e ne abbiamo venduti 15.000 in un mese, Facebook ne ha fatto un caso di studio, lo trovate condiviso, è al posto del McDonald's a Pescaria nella pagina dei business case. Ora, peraltro, dato interessante, la brand awareness di un'azienda si misura? Il brand di un'azienda lo si conosce dalle ricerche correlate al marchio, oggi Pescaria ha mediamente circa lo stesso numero di ricerche spontanee da Google di McDonald's, il punto cosa è che, perché io faccio questo confronto? Perché quando io andavo all'università mi parlavano della Coca Cola, della McDonald's, di tutti questi casi di marchi assurdamente grandi, ma la verità è che in realtà quando un ragazzo come me esce dall'università, sbatte la faccia contro una realtà che è distante anni luce, io la prima cosa che ho fatto è stato, ahimè, aprire una partita IVA. Poi, questa è la storia anche di Pescaria, ho fondato nel 2012 una agenzia di marketing, ad oggi l'età media nella mia agenzia dove ci sono 16 persone di 26 anni, siamo tutti persone qualificate, laureati in vari settori che convergono al supporto del marketing, e tra i nostri clienti avevamo quello che oggi è un nostro socio, cioè Bartolo Labbate Pescheria lo Scoglio, che è una persona che è distante dal mondo della formazione accademica. Ora, la verità è che insieme abbiamo fondato la società che ha dato vita a Pescaria, ma il punto cosa è, è che io non credo che né l'uno né l'altro sarebbero riusciti a giungere al risultato che abbiamo raggiunto oggi lavorando da soli, perché noi abbiamo portato una quantità di conoscenze, ma anche l'altro ha portato un'enorme quantità di conoscenze e la catalizzazione che è nata da questa tensione ci ha portato a creare Pescaria che è un'azienda che in 18 mesi ha assunto 50 persone, abbiamo anche assunto persone a Milano, quindi non è vero che, come dicono, noi siamo... e lo abbiamo fatto, e questo tema è molto importante, in Italia, dove, un dato, noi siamo la prima realtà europea per numero di imprese condotte da under 35, cioè solo nel 2016 sono nate 50.000 imprese condotte da under 35, ne abbiamo 600.000 a livello nazionale, siamo leader sopra l'Inghilterra, la Francia, la Germania, quindi cosa vuol dire? Che forse in Italia è estremamente importante quando effettivamente un progetto è in grado soprattutto di dare una risposta reale, un esempio, un corso di laurea in economia con una specializzazione nel comparto ospitali, teoreca, è qualcosa di estremamente importante per un territorio come quello pugliese in cui abbiamo 66 ristoranti, abbiamo un ristorante ogni 66 persone, cioè abbiamo più ristoranti di quelli che ci servono. Se non diamo una strutturazione per creare un reale contesto competitivo, quello che accadrà è un cosiddetto macello competitivo, quello chiamo io, cosiddetto da me, cioè dove la gente si butta, non ha idea di che cosa sta andando a succedere e in realtà va per selezione naturale, quindi chi ha avuto l'idea buona o chi ha fatto meglio sopravvive e gli altri periscono. Io credo che la formazione sia in grado di creare degli imprenditori, soprattutto under 30, capaci di portare il nostro sistema territoriale e il nostro sistema economico a un livello competitivo superiore, che fra dieci anni sicuramente sarà in grado di porre la nostra regione e la nostra terra, perché poi facciamo parte di un territorio chiamato Italia, nella top non degli stati europei ma anche mondiali. Io credo che abbiamo tutte le carte e se le giochiamo bene ci arriviamo. Grazie. 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 Grazie.